Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel caso di strice e bentornati su Counter Strike Global Offensive. Mentre lo Strenus questa notte dormiva a sogni tranquilli come tutti voi, Gaben e la Valve hanno deciso di rilasciare finalmente una nuova mappa di gioco, una nuova cassa e quindi nuove mimetiche. E soprattutto hanno attuato alcuni update di cui tra pochissimo parleremo, ma partiamo proprio dalla mappa. Si chiama Canals e trova la sua ambientazione in una città storica italiana che come ben potete notare da queste belle immagini è certamente Venezia. Prima di esplorarla assieme passiamo adesso a vedere anche quelle che sono le novità per quanto riguardano le skins. Il nome della cassa è Spectrum Case ed è veramente interessante in quanto sono state introdotte diverse segrete particolarmente belle. Il primo è la K47 Blood Sports, passiamo poi alla USPS Neo Noir, veramente bella a mio parere. Molto appariscente anche la CZ75 Auto, mentre il Decimator è qualcosa di assurdo ragazzi, veramente spettacolare. Con questi riflessi che vanno dal fucsia all'azzurro acceso, la VP non rispecchia esattamente i miei canoni di bellezza, ma comunque è superiore a tanti altri. Passiamo poi all'M249 Emerald Poison Dart, che sinceramente non mi fa né caldo né freddo, ma comunque rimane una skin decente. Per quanto riguarda invece il Galila R Chrysom Tsunami, devo ammettere che non mi dispiace per niente, così come l'XM 1014 Season e l'interessante MP45 Scaffold, che rimane comunque una confidenziale. Per finire abbiamo il nuovo MAC 10 Last Dive, il fucile a canne mozze Zander, MP7 Akoben, poi troviamo il PP Bison Jungle Sleep Stream e la bella Desert Eagle Oxide Blades, che ricorda vagamente la Desert Eagle Bluze. Per quanto riguarda invece la 5-7 Capillary non mi dispiace per nulla, in quanto sembra pulsare direttamente nelle mani di chi la possiede. P250 Ripple per noi, e per ultimo lo Scar 20 Blueprint. Fatemi sapere già da adesso ragazzi cosa ne pensate di queste nuove mimetiche, ora buttiamoci all'interno della nuova mappa. Ed eccoci dunque questa nuovissima mappa, che come potete notare ricorda, come precedentemente dicevo, l'ambientazione veneziana. La prima particolarità di questa mappa, come potete notare, è che a differenza di molte altre, non presenta grandi spazi aperti, ma permetterà di utilizzare armi a corto raggio come fucili a pompa ed SMG negli stretti vicoli di questa bellissima città. Una delle particolarità, oltre alla splendida grafica già di questa prima versione, è anche il fatto che sono stati riprodotti canali sul quale si può paradossalmente camminare, facendo scaletta sulle diverse imbarcazioni e potendo così raggiungere altri edifici ed altre stanze. Proveremo sicuramente con gli audere anche questa modalità e questa nuova mappa, anche se ci vorrà sicuramente del tempo per imparare poi delle strategie efficaci. Fatemi sapere anche in questo caso, ragazzi, cosa ne pensate di questa nuova mappa, se vi piace oppure meno. Per finire vi ricordo che sono stati aggiornati anche i modelli poligonali dei terroristi affinché siano più realistici. Per quanto riguarda i coltelli, invece, questa cosa è molto interessante, sono presenti le variazioni croma per tutti i modelli. Possiamo infatti ora trovare un coltello cacciatore Marble Fade o addirittura Dente di Tigre. Questo vale, logicamente, anche per tutti gli altri. Spero, ragazzi, che questo veloce aggiornamento vi sia piaciuto. Se così è stato, condividetelo con amici parenti e serpenti del giardino. Noi ci becchiamo oggi pomeriggio con un Overwatch proprio di Counter-Strike Global Offensive. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. In questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su DS per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima. Alla prossima